Oddio! 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 Ah! Che schifo! Che schifo! Alla mattacca! Ciao, io sono Poggo Rapper. Questo gioco è troppo matto. L'ho registrato insieme a Dottor Gatto. Se vuoi seguimi anche su Instagram, se non l'hai già fatto. Anche su Poggo Doggo Shorts, che è il mio secondo canale. Io adoro mangiare le... 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 banane. Fa... fa rima? Boh? E se il video ti è piaciuto e non ti sto totalmente antipatico, lascia like e... 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 vabbè. Non mi viene nessuna rima. Buona visione! Benvenuti su Nonna Pelata Simulator. No, ragazzi, davvero. Il gioco si chiama Granny Simulator. Letteralmente simulatore di nonna. Cosa... Cosa stanno vedendo i miei occhi? Cos'è questa roba? Questo non è un bambino. Questo è Satana. Il martello è più grande di lui. La cosa divertente è che una persona impersonerà la nonna. L'altro, il bambino. L'obiettivo del bambino è uccidere la nonna. L'obiettivo della nonna è fare tutte le faccende di casa senza morire. Mi sembra geniale. Tra l'altro, si è il bambino che la nonna hanno delle skin tipo... Un ninja? Sì. Un bambino ninja? Il terrore dell'umanità? È il terrore del terrore dell'umanità. Cioè, questo è proprio a capo di tutto l'inferno. Con questo non è che uccidi la nonna. La fai morire di infarto. Mentre la nonna molto semplicemente ha una sola skin. Ossia una testa da zucca di Halloween. Miglior gioco del mondo. Più o meno. Comunque, piccola parentesi, per sbloccare la skin del ninja dobbiamo uccidere la nonna con un coltello nero da lancio. Già potete capire come sarà l'intero gioco. Da notare che c'è primo livello, secondo livello, terzo livello e poi win! Che dovrebbe essere Halloween. Ma lì c'è scritto win! Comincio ad aver paura di questo gioco. aiuto! Io sono la nonna! In alto a sinistra c'è scritto non riesco a ricordare cosa devo fare. Mi servono le mie pillole per la demenza. Dovrebbero essere quelle verdi. Va bene, se non lo sai tu. Ho annaffiato le mie piante oggi. Credo siano nel salotto. Va bene, andiamo ad innaffiare le piante. Mamma mia! Mamma mia che ansia! Aiuto nonna! Dove sei? Che hai fatto? Sono dentro la porta! No, stai correndo contro il muro! No, io sono dentro la porta! Ti aiuto io! Aspetta! Madonna mia! Che botta! Vado a farmi una... Aia! Oddio! Oddio! Oh mio Dio! Ci sono i fantasmi! Non riesco ad entrare nella doccia! Aiuto io nonna! Sì, grazie! Dammi una ma... Aia! Ecco, fai un bel volo da... È uscito del sangue sulla doccia! È per caso il tuo? No? Sì! Forse il tuo! Addio! Vado a innaffiare le piante! Ma come faccio ad arrivare a quella pianta? Ma chi ce l'ha messa lì? Ce la posso... Chiamma un'ambulanza! Ma non per me! Tutto bene? Cosa è successo? È volata tipo a caso! Oh, la smetti di guardarmi? Oddio! 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 Che schifo! Che schifo! Ho il bambino indemoniato, altro che il baby yellow! Allora, dobbiamo trovare una soluzione! Chiamate un medico! Un esorcista! Vabbè, intanto che tu sei qui a fare le tue cose con Satana... Io vado ad innaffiare le piante! Ci vediamo dopo! No, no, vabbè, questa roba è fuori di testa! Io non ho parole! Una pistola! Aspetta, aspetta! Fermo! Fermo! Ok! Ho usato il teaser! Forse adesso si è sbaggato! Ce l'abbiamo fatta! Vai a giocare con gli altri bambini! Fammi innaffiare le piante in Santa Paglia! Aia! Ma che botta! No, no, no! Stai buono! Aia! Stai buono! Madonna! T'ammaccio! E ti colpisco! Rimani là! Nel lavandino! Devo arrivare a quella pianta! Posso farcela! Nonna, vuoi un martello? Manca poco! Aia! Ti spacco la testa, altro che martello! Aia! Devo innaffiare quella maledetta pianta! Posso farcela! Posso farcela, ne manca solo una! Oh mio Dio, cosa è successa? Mi manca l'ultima pianta! Posso farcela! Ho solo 27 di vita! Ma devo farcela! La sto innaffiando! E tu non mi fermerai mai! Oh no! Ce l'ho fatta! No, mi servono altre pillole per la demenza! Sono sempre quelle... Oh oh! Ho un regalo per te per chiederti scusa per tutto quello che ho fatto! Aia! Anche io ho un regalo per te! Prima voglio mostrarti il regalo! Aia! Io vado a prendere i fiori in giardino, va bene? Fai il bravo! Ok! Ma siamo sicuri che quello è mio nipote? Io non me lo ricordavo così! Vabbè, non fa niente! Madonna, ma quanto è lenta! Gli tenderò un'imboscata! Non mi vedrà mai! Sono perfettamente mimetizzata! Circa! Nonna, dove sei? Ah, sorpresa! Devo scappare! Devo andare a prendere i fiori! Veloce! Mamma mia, ma è già finita l'energia! Ma scusa! Vieni qua! No, no, no! Allontanato! Ma mi hai fatto malissimo! Ma dai! Ti prego! Volevo solo prendere i miei fiori! Per favore! Madonna mia! Ma come fa questa a essere ancora viva? Ti prego, aspetta! No, no! Solo un fiorellino! Per favore! Solo uno! Ti prego! Ok! Grazie! Sei davvero gentile! Ah! Ma questo mi è entrato nell'occhio! No, no, no! Dai, 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 dai! Devo prendere un fiorellino! Ti prego! Aspetta, aspetta! Facciamo un patto! Io ne prendo solo altri tre! E basta! Anche se non finisco la missione! Ok? Perché ne devo prendere sei! Tu poi puoi uccidermi, va bene? Solo altri tre! Ok! Ti torrò d'occhio! Sì, sì, sì! Solo altri tre! Ma cosa serve questo coso? Per anafiare le piante? Provo! Credo sia un insetticida! Vabbè! Vai! Io ancora non capisco come faccia a essere ancora viva! Sono molto confuso! Eh, credo non sia più viva! Credo sia definitivamente morta! Che poi, tra l'altro, si è messa come Gollum! Mmm! Buona questa porta! Il mio tesoro! Ma guardala! Ma poverina! Scusami, Cat, ma sono troppo curioso! Voglio provare il livello di Halloween! Anzi, il livello di... Wim! Ah, quindi mi stai dicendo che il livello di Halloween è la casa normale... Però più horror! Fantastico! Vengo a distruggere... Aia, madonna mia! Mi è sbattuta la porta in faccia! Che buoni biscotti! Me ne fai assaggiare uno? Ah! Ho gli biscotti! Gli biscotti! Ah! Nonna, hai detto i biscotti! Non un taser! Dammi i biscotti! Ti spacco la testa! Aia, aia! Mi sono fatto malissimo! No, no, no! Come hai fatto ad usare il teso? Io ti punisco! Aia, aia! Eh, no, nonna! L'hai comprata tu! Eh, la scimmia... Che... Nonna, ho paura! È la scimmia di Call of Duty! Quella che ti dà le armi! No, vabbè! Ma questi ticci sono geniali! Tia, nonna! Beccati un bicchiere in fa... Esci dalla casa! Sarà troppo con la cucina! Ma una cosa dovevi fare! Cucinare i biscotti! Ma dai! Eh, eh... Scusa per i coltelli! Scappiamo! Nonna! No, nonna! Ma che fai? Dobbiamo uscire dalla casa subito! Cioè, ho vinto perché tu hai bruciato la casa? Questo è stupendo! Sì! Ho sbloccato la skin di Satana per il bambino! Adesso verrò a torturarti nei sogni! Sì, maledetta nonnina! Eh, perché è tutto buio? Ma sono le 11 di mattina! Devo trovare la mia lanterna! È nel seminterrato! Sì, sì, ma io non voglio andarci nel seminterrato! In tutti i giochi horror inizia sempre così! Si toglie la corrente, si scende nel seminterrato e si muore! Nonna! No, 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 no! Oh mio Dio! Mori! Ma come fai a non morire? Sì, mori! Ma mi hai spaccato un piatto in faccia! Oddio, dove sono? Sei nel seminterrato! Grazie per averlo trovato! Vai! Esci prima tu che c'ho paura! Ahia! Madonna mia! Allora, la mia missione è quella di accendere la luce! Devo andare nell'attico! Salve ragazzi! Benvenuti nella casa del terro... Ahia! Stavo dicendo! Benvenuti ragazzi nella casa del terrore! Questa è la mia dim... Vabbè, ma non è possibile! Vabbè, benvenuti nella casa del terrore! Speriamo che vi ammazzino! Ciao! Tieni! Mi hai lanciato una bomba! Sì, ma questo non lo è! Ahia! Hai mangiato? Sì, nonna! Tu mi stai dicendo le bugie! Come osi! Questa è... Lasagna! Ah! Oddio! No! No! Non so cosa sia successo, ma credo che il tuo fantasma mi abbia buttato giù dalla casa! Ragazzi, comunque non ho più voce! Cioè, io arriverò alla fine della settimana e che i miei video saranno... Ciao ragazzi! Io sono Pogodoggo! Che tra l'altro con questa atmosfera è praticamente perfetto! Oh, ma ti levi! Nonna, come i soldati medievali! Ma sei scemo! Io sto lavorando per te e tu mi conficchi le lance che non so dove tu abbia preso nelle braccia! Ma vai a lavorare! Nonna, ho trovato pure io una lanterna! No, no, no! Quella è una moloda! Ah! Ho perso! Ma, cioè, attivando il generatore vinco! Troppo facile così! Nonna, mi cucini i biscotti! Guarda, sono felicissimo di avere i biscotti! Ma, 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 mamma mia quanto è brutto! Nel frattempo che cuociono i biscotti ti spacco un piatto in testa, eh! Questo sangue... No! Ma, cos'è successo? Stavo guardando il sangue buggato e mi sono ritrovato nel mobile! Eh, nonna fa caldo, mi chiudo nel frigo! Ah! Ok! Eh, aiuto! Non voglio più tornare nel frigo! Nonna, 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 esci dal frigo! Nonna! Ti ho detto, ti ho detto mille volte di non entrarci in frigo! Eh, nonna! Che ci fai con un estintore in mano? E dove stai portando i biscotti? Scusa! Andiamo a fare picnic! Ah! Ah! Di notte! Va bene! Ti seguo! Nonna! Proprio sicura che dobbiamo farlo dentro un pentacolo? Il picnic? Non accenderle! Non... No, 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 no! Ma io... Dai! Cos'è sta ro... Ma mi avevi detto che era un picnic! Hai evocato Satana e mi hai fatto mangiare! No, è papà! Ma come papà? Al prossimo video! Ciao!